Le materie scelte per la seconda prova scritta della maturità Per quanto riguarda i licei, al liceo classico è stato scelto latino, al liceo scientifico matematica, al liceo linguistico lingua straniera, al liceo pedagogico pedagogia, al liceo artistico disegno geometrico, prospettiva e architettura. Per gli istituti tecnici e professionali le materie scelte sono per l'istituto tecnico commerciale economia aziendale, per l'istituto tecnico per geometri e costruzioni, per l'istituto tecnico per il turismo tecnica turistica, per l'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione alimenti ed alimentazione, per l'istituto professionale per i servizi sociali tecnica amministrativa ed infine per l'istituto professionale per tecnico delle industrie meccaniche macchine a fluido.